Sono settimane di dibattito sul futuro del mercato di Mortara. La causa di tutto sono i programmati lavori di riqualificazione di Piazza Silvabella che causeranno un effetto domino per la riduzione degli spazi per le bancarelle. Primo tema di discussione è quando effettuare i lavori. Il Comune voleva partire dopo Pasqua, gli ambulanti chiedono di rimandare alla tarda primavera per non perdere incassi. Nelle 3-4 settimane di cantiere infatti i banchi andranno spostati e l'ipotesi è di finire in zona campo sportivo nel vialetto attorno a Piazza Trento, piuttosto decentrato rispetto al resto del mercato. La richiesta degli ambulanti è di spostarsi temporaneamente verso Viale Ariosto, vicino ai banchi degli alimentari ma con conseguenze pesanti sulla viabilità. L'altra questione è cosa fare dopo. Quando sarà pronta la nuova Piazza Silvabella con Eoiuole e Arredurbano lo spazio diminuirà. Potranno starci otto banchi in meno. L'ipotesi è di spostarli tra Piazza Olivelli e Piazza Monsignor Dughera, aree meno appetibili in quanto c'è minor passaggio. È l'unico mercato che ho comperato il posto e adesso me lo vogliono tirar via. Per che cosa? Per fare le aiuole, quelle cose lì, ma principalmente il lavoro, è il lavoro che bisogna. Quindi vuoi lavorare te lo tirano via. Ci sono i modi e i criteri per spostarti, commercialità di licenza. Io dal 79 che sono qua in piazza, dal 79 non è un giorno. Poi magari c'è qualcuno che ha la licenza più vecchia perché l'ha comperata, ma non è giusto. Anche tra chi rimarrà in piazza Silvabella però ci sono malumori. Alcune concessioni vedranno diminuire la metratura e se la bancarella è troppo grande ci si dovrà spostare comunque. Altri contestano un progetto di arredo urbano poco consono a una piazza mercatale. Un esempio per tutti, dei cordoli accanto ai banchi col rischio di inciampare. L'amministrazione comunale ha tutti i diritti di riqualificare quest'area qua. Ci sta, hanno dei soldi da spendere, ben venga, la facciano il più bella possibile. Però questa cosa qua deve incastrarsi con il fatto che un giorno a settimana occupa un mercato storico. Sono in corso dei contatti tra i rappresentanti dei commercianti e l'amministrazione comunale per organizzare un incontro chiarificatore. Bisogna essere insieme, tutti uniti, fare un mercato. Qui c'è una piazza di là, una piazza di qua. Non si sa bene dove. C'è anche chi, come l'ex assessore al commercio Fabrizio Giannelli, propone di cogliere l'occasione per ridisegnare il mercato, approfittando degli espansi resi disponibili dal trasferimento della caserma dei Vigili del Fuoco, che ha liberato parte dello slargo tra Piazza Trieste e Via Roma. È stata creata una piazza per l'alimentare per tener conto della viabilità dei Vigili del Fuoco. Oggi non ci sono più, per cui questa è una realtà da cambiare. La piazza Silvabella, giustamente bisogna fare delle manutenzioni, è l'occasione per azzerare il mercato. Con gli ambulanti si azzera il mercato, si azzera le posizioni e si discute il nuovo mercato, si mette in ordine un nuovo mercato.